Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostro l'applicazione messaggi su iOS 7 questa applicazione è cambiata davvero tanto e devo dire che mi piace decisamente di più analizziamola nel dettaglio allora entriamo in una conversazione in questo caso di iMessage come prima se sono le conversazioni di iMessage i messaggi saranno blu mentre se saranno messaggi normali saranno verdi quindi che differenza c'è, quelli blu saranno gratis, quelli verdi saranno a pagamento ma a parte questo che c'era anche prima non c'è più la possibilità di cancellare i messaggi in gruppo o meglio sembra non esserci più perché prima su iOS 6 qui sopra c'era il bottoncino modifica e bastava selezionare tanti messaggi e fare cancella mentre ora si fa in un altro modo bisogna tenere premuto sul messaggio andare qui su more e in questo modo possiamo selezionare tutti i messaggi che vogliamo eliminare una volta selezionati basta premere qua sul cestino e fare elimina messaggi selezionati in più abbiamo una nuova funzione che mi piace moltissimo premendo qui su contatto e andando su info abbiamo la possibilità di bloccare il contatto stesso infatti in fondo ci sarà scritto blocca numero se io blocco il numero blocca contatto questo contatto non potrà più chiamarmi e non potrà più mandarmi messaggi e non potrà più mandarmi neanche messaggi con iMessage o chiamate su FaceTime infatti ora se andiamo nelle impostazioni andando giù nella voce messaggi in basso avremo la voce bloccato qui ci saranno tutti i contatti bloccati guardate bloccherà tutte le mail tutti i numeri tutti i contatti di quel contatto potremo aggiungere altri contatti da bloccare e in più se magari abbiamo bloccato una persona per sbaglio basta fare modifica premere qua sul meno e fare sblocca in questo modo è molto comodo potremo sbloccare non tutto il contatto ma solo alcune delle sue parti mi spiego meglio se noi abbiamo un contatto di una persona che vogliamo che ci scriva solo da un determinato numero possiamo bloccare tutti gli altri numeri e lasciare sbloccato solo quel numero davvero molto quindi ragazzi questa era la mia review dell'applicazione Messaggi su iOS 7 se volete installare iOS 7 cliccate qui e comparirà il link che appunto rimanda al mio video su come installare iOS 7 Beta 1 su qualsiasi dispositivo in modo gratuito senza registrare l'UDD e senza essere degli Apple Developer io vi saluto ciao a tutti ragazzi io vi saluto